Chi sióm, lo tirgo nel cantiere, dovrà �ra l'Ale, se prima non ποà, alè, 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 alè. rispetto a tutte le piccole opere di cui abbiamo bisogno anche quando si parla di lavoro la dimostrazione vera che conosciamo, che conosciamo fin troppo bene è che l'alta velocità intorno il corteo entrerà nella città e siamo sicuri che Torino si schiererà al fianco del movimento LOTAV al fianco dicono solamente no a un'opera assolutamente inutile pagata con i soldi di tutti in un momento dove questo paese avrebbe bisogno di tutt'altro le bandiere 8 oggi sono l'ultimo baluardo nella difesa delle popolazioni dei soldi pubblici, dei bisogni ed oggi anche dei diritti di tutti